Prende velocità il mezzo meccanico prima dello stacco della macchina per Grimm, sbotta improvvisamente di galoppo alla chiusura delle ali e proprio Pari de Hans che sfila il comando all'interno cerca di rientrargli, primo la cache con all'esterno parte forte anche Pendrago DVM ma è Pari de Hans che ha assunto deciso il comando delle operazioni 13-7 il lancio si presenta al suo esterno Pendrago DVM che gli va a chiedere strada si è sistemato terzo lungo i birilli primo la cache ma Pari de per il momento non vuol concedere disco verde a Pendrago DVM 27-5 il primo quarto con in terza posizione Patrizia Flesci all'esterno sempre Pendrago a comandare Pari de Hans che precede primo la cache il passaggio ai 600 metri iniziali in 43-4 15-9 di frazione l'avanzata all'esterno anche di Pedrosa OM che va a prendere la scia nel frattempo di Pendrago DVM cavalli che vanno al passaggio a metà corsa in questo istante in 59-3 si viaggia da 1-14 a tabellone sono finiti Plinio Mail e il 9 di prestigioso VAM continua a comandare sempre Pari de Hans che per il momento non ammette interferenze di sorta il chilometro viene passato dal leader sul piede dell'1-14-2 Primo la cache non lo perde di vista intanto all'esterno c'è lo scatto di Paris Deni che cerca di ricucire il gap trascinandosi a sua volta il numero 10 di Phil il passaggio ai tre quarti in 1-28-6 con l'avanzata all'esterno deciso da parte di Pedro MP che avanza deciso ma è sempre Pari de Hans che affronta in vantaggio l'addirittura di arrivo con Primo la cache che cerca di andare ad attaccarlo ma Pari de Hans ha deciso di fare per quest'oggi passerella passerella per il favorito di Pari de Hans e Glauco Cicognani che vanno a siglare questa seconda corsa nei confronti del numero 1 di Primo la cache del numero 8 di Paris Deni terminati nell'ordine 1-58-2 il tempo totale 1-13-9 il raguaglio al chilometro l'ultimo quarto in 29-6-15-8 per l'addirittura di arrivo cost to cost facile facile per Pari de Hans e Glauco Cicognani al secondo posto un ottimo numero 1 di Primo la cache a precedere l'8 di Paris Deni 4-1-8 il probabile ordine d'arrivo numerico ed ufficioso alla seconda corsa dall'ippodromo d'Abruzzo e tutto restituisco la linea ad Emanuele Cardona per le interviste di rito al rientro dei protagonisti